Un'altra partita persa, non dico più niente perché anche oggi è un disastro, secondo me giochiamo ma quando deve andare male va male, lo so che non è giusto dire colpa della sfortuna, colpa di quello, colpa dell'altro, però tra arbitri, guarda linea, il rigore non datti, il rigore parati, non ci capisco più niente. Volevo avere notizie di Barella perché mi sono abbastanza spaventata vedendo quel pallo che ha subito, è andata così, è andata male, ho paura di che settimana dovrà affrontare il Cagliari, speriamo bene, sempre forza Cagliari, giovedì si gioca qua, speriamo, forza Cagliari. Secondo te hai fatto filmino? Perché ho visto che c'era il flash?